Socrate dice che non basta far solo uso del proprio intelletto. L'importante è vedere per quale causa lo si impegna. Servire la buona causa significa essere morale. Per questo Socrate è il fondatore dell'etica. Dovete essere puri di cuore se volete che la vostra intelligenza sia degna di essere ascoltata. Filippo Mignini